Vedo l'ora che parta questa commissione d'inchiesta sulle banche, perché è sembrato per mesi che il problema fosse soltanto di due o tre banchette toscane. Si è fatto credere che il problema fosse di qualche banchetta territoriale. Si è fatto credere. La commissione regionale d'inchiesta sul monte dei Paschi di Siena. Tutti concordano nel riconoscere le responsabilità della sinistra nel disastro della banca. 50 miliardi persi dalla sua privatizzazione ad oggi. Tutti concordano nel riconoscere le responsabilità della banca.